Tutto pronto, ci siamo? Parti! Il cavallo dei Lox d'Italia, Tattrasas 2023. Con Shavasana che va subito in avanti nei confronti di Shizrek Win che è seconda in corda su Aquila Reale. Tani che si lascia sfilare cedendo il passo a quello di fuori con Shavasana che tira via e bella spedita in questa prima parte di corsa. Poi ancora nelle posizioni di rincalzo sta emergendo all'esterno Meilin in giù, Barosa che spiazza all'affondo per passare al secondo. Al terzo Beirut, al quarto ancora in quota Aquila Reale, poi Arrusha Shizrek Win Tani nei confronti in corda di Gambia San poi ancora Salvina nel posizionio di retroguardia invece Viu Zebil che va a fare a sportellate anche con Gambia San. Shavasana comunque in vantaggio seguita da Meilin che ne segue le mosse in seconda posizione in giù, Bafuxia al terzo in corda con le maniche rosa Aquila Reale, a largo si fa notare Arrusha con la giuba gialla che ha scavalcato in rosso Beirut poi per via interna Shilas De Win con il cap giallo con l'altro cap giallo ma è riconoscibile perché grigia Tani nel cuore del gruppo poi ancora per le corsie centrali Salvina in giuba marrone Viu Zebil in blu con la fascia bianca navega nel posizionio di retroguardia per il momento con Shavasana che è sempre in vantaggio un paio di lunghezza a suo margine su Meilin che segue in seconda posizione al terzo Arrusha poi Aquila Reale Beirut Cavallo che in quest'ordine colpetta nella piegata si entra in retta d'arrivo gli 800 mirti della verità quelli della pista grande di San Siro con Shavasana e Holly Doyle che all'intersezione delle piste sono sempre in vantaggio nei confronti di Meilin di Arrusha di Aquila Reale Viu Zebil che sta intervenendo di fuori si muove anche Tani in anticipo su Beirut con Shavasana che prova a ripartire sul gruppone che adesso si lancia in seguimento con Meilin e Viu Zebil all'esterno ci prova anche Beirut che sta scattando poi Tani di fuori a tutti di Estrosa con Shavasana che 400 ha in vantaggio su Meilin che prova a riacciuffarla di fuori a tutti prova anche Salvina poi Viu Zebil arriva Spirit per via interna con Shavasana che è sempre in vantaggio su tre teccanti che provano a riacciuffarla all'ultimo farlo Shavasana attaccata da Viu Zebil Shavasana in fuga da Viu Zebil che ci prova Shavasana e Viu Zebil Shavasana e Viu Zebil Shavasana in costo costo che vince le Hawks e batte Viu Zebil al terzo Meilin Holly Doyle fa la storia anche qui a San Siro prima però l'avvocato dove è l'avvocato? l'avvocato prima lei prima prima l'avvocato ok bene finalmente ce l'abbiamo fatta per la premiazione delle Hawks io scommetto che questo sarà la pausa più fragorosa perché l'ultimo premio di Tattasas è per non the man on board ma the girl on board Holly Doyle prima Fantina scusa italiana che vince le Hawks con Shavasana in costo costo grazie grazie anche a mister Jimmy Giorgia Tattasas che è voluto sponsorizzare le Hawks torniamo dunque facciamo un piccolo passo indietro sempre per il siamo a posto ok tokyo very much mister mister Jimmy ok il direttore dell'ipodomo della business unit dottor Renzo Stoppini consegna la coppa alla proprietà di Shavasana riceve Alduino Botti prego Jimmy complimenti dunque per Shavasana Jimmy grazie mille grazie mille grazie mille grazie complimenti e invece adesso il signor Andrea Besana consegna oggetti di ricordo ma soprattutto di vittorie alla categoria che vincono Holly Doyle che riceve sempre da Andrea Besana Alduino Botti come proprietario per il signor Yoshida Teruja e infine Stefano Botti per il training di Shavasana è l'ultimo in questo caso non dimentichiamo complimenti a Shavasana grazie anche a Tatters che ha sponsorizzato l'edizione di Buonaventura delle OX complimenti a Holly Doyle complimenti chiaramente anche grazie a Tatters